e via eccoli piano adesso acceleri riuscite riuscite l'hai saltato e via e via ok ok step successivo una volta che hai fatto la finta chi è qua non sta fermo in mezzo ma si sposta o a destra o a sinistra a chiedere la palla perché questo? fate tutti la finta e guardate per te quindi fai la finta si sposta o a destra o a destra e la chiama ok andiamo vedi che adesso la fai lenta non la vuoi? è deciso lui? decidi 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 ok ok visto che siete bravi con quella frontale ne facciamo una con l'avversario può stare anche lì il difensore del passivo mi va sul vertice di là sul blu vieni sulla via destra di là io ti passo la palla tu la porti in avanti e tu gli intervieni lateralmente quindi in diagonale più o meno a metà strada ok passa lì pure il pallone posso fare l'avvio qua lo aspetta e tu gli vieni un po' più veloce devi raggiungerla ok quando lì ti raggiunge lo fai passare avanti ok fai finta di calciare passivo quindi gli dagli una mano devi accelerare ok andiamo ecco lì e la passo e ruotiamo di nuovo due tocchi e la passo possiamo fare due tocchi e la passo la passo bene il controllo il controllo è fondamentale andiamo bene il corpo dell'avversario bisogna il braccio il braccio cerchiamo il contatto non hai paura non hai paura che tanti non hai paura non hai paura tolta gumi tolta gumi tolta gumi tolto gumi Questa era una seconda variante, le altre ve le evitiamo. Adesso facciamo con il diffusore attivo, frontale, palloni li portiamo di là.